Buongiorno a tutti, sono Irene Carantini, fisioterapista ACM di Rete. Lavoro a Bozzolo da quattro anni, seguendo il trattamento, le valutazioni e la ricerca sui pazienti con sciarcoma ritut. Oggi vi parlerò del percorso che compie nei pazienti nella nostra struttura riabilitativa, ma soprattutto delle attività evidence-based che possono essere svolte dai soggetti con sciarcoma ritut, dapprima in palestra con il fisioterapista e poi anche a domicilio in autonomia. Lo svolgimento degli esercizi insieme ad un professionista sanitario è importante in quanto rappresenta una proposta che deve essere testata e aggiustata su ogni singolo paziente. Ecco perché spesso non è sufficiente eseguire esercizi standard o imitare attività mostrate su video in internet. Quali sono dunque le attività riabilitative che possono essere svolte dalle persone con sciarcoma ritut? Iniziamo dagli esercizi di rinforzo dei muscoli prossimali, cioè dei muscoli del bacino e delle cosce. Gli esercizi servono in questo caso non solo a migliorare la forza, ma anche la velocità del cammino, l'equilibrio e a migliorare lo svolgimento dell'attività di vita quotidiana. Gli esercizi di rinforzo possono essere svolti a tappeto o a lettino, come in questo video dove il soggetto mantiene sollevati un braccio all'alto inferiore opposto per più volte. Possono essere eseguiti con l'ausilio di piccoli strumenti, come in questo caso l'elastico che costituisce una resistenza all'estensione della gamba, oppure in stazione retta. Nel video la paziente è appoggiata ad una palla a muro e mantenendo la schiena dritta deve flettere ed estendere le ginocchia mantenendo per pochi secondi la posizione semiseduta. Per chi ama gli esercizi un po' più difficili è possibile utilizzare delle superfici instabili a lettino o in piedi. In questo caso il soggetto non solo deve mantenere l'equilibrio con le gambe estese, ma anche portare verso di sé la palla che ha sotto i piedi. Infine per gli esercizi in stazione retta si possono usare le tavolette proprio settive che costituiscono una base instabile su cui poter eseguire squat, come in questo video, oppure esercizi in monopodalica, cioè su un solo arto inferiore. Per migliorare la forza e l'attivazione dei muscoli delle gambe, cioè quei muscoli che permettono di muovere la punta del piede, possono essere eseguiti degli esercizi a lettino o in stazione retta guidati dal fisioterapista, aiutati da un elastico oppure anche su tavolette proprio settive. In questo video, per esempio, il paziente muove su e giù la punta del piede aiutato da una tavoletta unidirezionale per poche ripetizioni per più serie, senza arrivare alla sensazione di debolezza muscolare. Questo esercizio invece ha lo scopo di riattivare i muscoli intrinseci del piede e consiste nel riuscire ad aprire il più possibile le dita dei piedi per poi stringere un foglio di carta sottile. Infine, in quest'ultimo video, viene mostrato un esercizio per il rinforzo dei tricipiti surali dove il paziente, appoggiato ad un sopporto, si alza più volte sulle punte dei piedi controllando la discesa. Per affrontare una delle problematiche più frequenti nella malattia di sciarcomaritut, i disturbi di equilibrio, risultano molto utili esercizi di stabilità sia a lettino con ausilio di superfici instabili, sia in stazione retta anche con attività degli arti superiori. Per migliorare la stabilità del tronco possono essere effettuati esercizi di core stability in diverse posture, come per esempio quattro zampe, in ginocchio o in che voglia servente, oppure risulta utile utilizzare superfici instabili, come la palla Bobat. Nel video, la paziente cerca di rimanere in equilibrio il più possibile seduta con l'appoggio di un solo piede. In stazione retta, invece, ci si può sbizzarrire, partendo da esercizi come quello in questo video. Con una base ristretta su un cuscino, il paziente deve passare la palla da una mano all'altra, seguendola con il capo e gli occhi. In quest'altro esempio, invece, il soggetto cerca di rimanere in equilibrio con un piede avanti e uno leggermente più indietro, muovendo la tavoletta in direzione anteriore e posteriore. O ancora, un esercizio che risulta molto difficile per la maggior parte dei soggetti con charcoma retoute è mostrato in questo video, dove il paziente deve effettuare un semipasso in avanti, rimanere fermo in quella posizione e poi tornare indietro senza perdere l'equilibrio. Nella stragrande maggioranza dei soggetti, questo tipo di attività risulta quasi impossibile, in quanto vengono ricercati sempre degli aggiustamenti con i piedi o l'equilibrio viene mantenuto solo durante il cammino veloce. Per migliorare la reattività anche durante la deambulazione all'esterno, possono essere proposti i percorsi su superfici instabili, come per esempio in questo video, dove il paziente deve camminare su cuscini e tappeti di consistenza e forme diverse. Infine, dato l'esponenziale aumento delle tecnologie informatiche avvenuto negli ultimi tempi, possiamo sfruttare piattaforme digitali come Xbox o Wii per far divertire i pazienti e al contempo farli lavorare sulla stabilità posturale. Un altro problema importante che affligge i soggetti con charcoma retoute è la perita di forza negli arti superiori. In palestra possiamo eseguire esercizi di rinforzo sia per la parte superiore delle braccia sia per i muscoli intrinseci delle mani. In questo primo video stiamo rinforzando i muscoli estensori del polso attraverso l'utilizzo di poco peso con alcune ripetizioni per più serie. Qui invece si sta ricercando un controllo della pronosupinazione dell'avambraccio con l'ausilio di una semplice bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Per mantenere attivi e rinforzare i piccoli muscoli delle mani e delle dite invece, è possibile aiutare il paziente nelle prese e pinze corrette. In questo video il soggetto deve chiudere le dita estese stringendo il fazzoletto di carta tra le dita per poche ripetizioni. Qui invece l'attività richiesta è quella di aprire le dita contro una lieve resistenza data dall'elastico per più ripetizioni e controllando il ritorno alla posizione iniziale. Per migliorare le pinze e la manipolazione di piccoli oggetti è anche possibile utilizzare lego, perline o pasta modellabile da usare anche al domicilio. In questo esercizio alla paziente veniva richiesto di mantenere la presa a pinza ai lati del mattoncino di lego con tutte le dita della mano alternate. Qui invece l'obiettivo era far ruotare una sfera tra le dita della mano senza farla cadere. Una parte fondamentale dell'esercizio fisico per un soggetto con sarcomaritut è l'allenamento aerobico che porta ad una migliore resistenza, a una maggiore forza agli arti inferiori e a benefici indiscutibili sui nervi e tutte le cellule dell'organismo. Questo allenamento può essere effettuato in palestra o in autonomia e consiste nell'esecuzione di un'attività regolare che richiede un incremento delle pulsazioni cardiache e della frequenza del respiro fino alla propria soglia aerobica. Alcuni esempi possono essere l'uso della ciclette effettuata con una tempistica sempre maggiore quanto più si allenati o ancora il tapirulan, l'ellittica, il cammino all'aperto o il nuoto. Ultima ma non meno importante attività è lo stretching dei muscoli più tesi o utilizzati durante la seduta di allenamento per mantenerli elastici e per permettere alle articolazioni di muoversi meglio durante la vita quotidiana. In questo video la paziente porta l'arto inferiore con gamba estesa al petto aiutata da un elastico per l'allungamento della catena muscolare posteriore. Qui invece viene mantenuta la postura statica farfalla per alcuni secondi per migliorare il movimento delle anche. Infine in quest'ultimo video la paziente aiutata da un elastico muove l'arto in chiusura per favorire il rilassamento della parte esterna della coscia. Questi esercizi devono essere effettuati per poche ripetizioni sempre al termine dell'allenamento quando i muscoli sono maggiormente vascolarizzati. Dopo questi suggerimenti non resta che augurare a tutti voi un buon lavoro sempre ricordando che l'attività fisica ha un ruolo fondamentale sulla gestione della malattia di sciarcoma ritut e che a volte solo alcuni esercizi specifici studiati con un professionista sanitario possono aiutarvi nel miglioramento di una particolare attività o funzione. Grazie a tutti.